Sì, oggi siamo in Unione, stiamo inaugurando un modo diverso di presentare il nostro legame con il territorio, lo sport pubblicitario serve sicuramente per le campagne pubblicitarie, per l'attività commerciale della banca, ma qui vogliamo veramente dare un omaggio al nostro territorio, al nostro legame e quindi stiamo pescando gli elementi più significativi. E tra questi una piazza prestigiosa come questa di Maglie, la nostra filiale che è sicuramente prestigiosa in questo contesto e la pizzica che poi tutto sommato c'è la sonorità che ci rappresenta meglio. Oggi veramente vogliamo celebrare la nostra storia in questo territorio, non casualmente, tra l'altro questa cosa la facciamo ora che la banca compie 20 anni, pur avendo oltre 100 anni di radicamento nel territorio, ma la banca popolare pugliese è nata 20 anni fa e quindi è l'occasione proprio buona per riprenderci e per celebrarci. È un'idea nuova, è un'idea per valorizzare il territorio ovviamente, noi siamo banca del territorio per cui il valorizzare il territorio per noi è importante. È anche un modo per avvicinarsi di più alla gente, ci chiamiamo popolare non per nulla insomma, quindi il fatto di essere in mezzo alla gente per noi è importante. Una cosa che nessuno sa è un sabato mattina, ognuno ha le sue faccende da svolgere, quindi stiamo in mezzo a una bellissima piazza del Salento, come tante ce ne sono nel Salento e nella Puglia per cui cercheremo di catturare l'attenzione senza fare riferimento a alcuno ma semplicemente al territorio. Noi abbiamo bisogno anche di esportare la nostra immagine e questa esportazione si può fare significativamente proprio con un cortometraggio come questo. Questo lo vogliamo valorizzare all'interno di un evento aziendale, però non è detto che non debba essere anche valorizzato all'esterno. Grazie a tutti.